è dicembre in particolare arriva san nicolò vediamo cosa abbiamo fatto non mangiare il sale tu vai fuori a metterlo vai ho già messo i piattini guarda e cucina un po in ogni piatto vai un po di e il giorno dopo isabelle mentre qui è giusto che è giusto è anche l'unicolo oh madonna oh madonna oh madonna oh madonna che bello questo qua è tuo stella cos'è? la stella 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 non ci sono più le cernierine come si è trovato la cucchiazza perché bisogna mettere le tire mamma il capello tete è la sua luce forse ho capito chi è la cucchiazza oh non lo hai trovato come porca vacca Isabel è una vacca almeno ti posso perdonare quello che hai detto si è una vacca un vestito un vestito io so che strumento ha ma come è un vestito? ma è un pet si è un vestito ha le mani questo vestito va a vedere la mamma cos'è una fisarmonica? si mamma si è scritto country finito no manca qualcuno qua in mezzo c'è ci deve essere qualcos'altro ah c'è la Isabel in mano stella ma io ho detto quella cosa lì perché è proprio una vacca vedo che è una vacca mamma è questa qua si dice mucca non vacca è questa qua è la country cow è la country cow cow che bella madonna cow e adesso dobbiamo vedere quello che ha aperto da Isabel però qua allora questa macchina non ho scoperto come si apre che bella si può finire anche così una sedia una sedia non penso che sia una sedia comunque va bene queste sono nuove per noi non le ho mai viste bella le tozze quello io sono le tozze ah se c'è la l'ol dai mi ha scoperto la l'ol oh ah no è un dizio è un disco no vediamo qua c'è un mandatino un mandatino si sembra tanto ecco ho capito cosa era questo Isabel suona la chitarra brava come è la l'ol è la l'ol ce l'ho io questa qua chi si chiama? madonna madonna si chiama non penso che sia madonna no che cosa guarda un capello diverso una cosa raccolta ah ma c'è una tre che forte magari un'altra capiglia ma quattro c'è una in mezzo ai capelli si ma guardate in fianco dove? è rasata sopra l'orecchio si ma mi sembra è morbida fuzzy wow no è decapitata comunque non lo scluderei che sia di punk boy guarda nel rock club nel punk boy ma anche la femmina cosa mangi? la camamela buona? è buona stella? oddio c'ha le tettine è proprio una mucca sono sicuro di mettere il vestito non ho capito mica boh ci provo un cedo ma anche io faccia un bella brutta brutta eh? vabbè tranquilla tengo io e qua cosa stai facendo? le canzoni diverse ma poi le ascoltiamo mettiamo le pile attenti un po' e unendo due box di lol insieme a una di pet si ottiene lo stereo qui abbiamo secondo noi la femmina di famiglia punk boy e qui abbiamo completato la famiglia di tuang bellissimo ciao a tutti al prossimo video